Procedete con uno strato di argilla espansa che facilita il drenaggio dell'acqua affinché non ristagni causando marciume radicale. Aggiungete terriccio specifico per agrumi a cui unite una piccola quantità di concime apposito a lento rilascio e molto concentrato. Preferite vasi di terracotta essendo più porosa facilita l'asciugatura della terra ed inverno tiene temperature più alte. Smuovete leggermente la zolla per rimuovere radici secche ma non esagerate specialmente se la pianta ha dei frutti, non è bene toccare troppo l'apparato radicale. Aggiungete sulla superficie del terriccio uno strato di lupino macinato perché è un acidificante e gli agrumi hanno bisogno di acidità in quanto piante acidofile. Effettuate il rinvaso degli agrumi nella stagione calda. Annaffiate con moderazione perché il terreno deve mantenersi ben asciutto.